In festa la comunità parrocchiale di Santa Maria del Principio. Da lunedì 22 infatti a venerdì 26 aprile, in occasione dell'anniversario sacerdotale del parroco Luigi Maiulo e di Don Gaetano di Palma, cinque giorni di riflessione e di spiritualità con le meditazioni del beato Carlo Acutis per accogliere la reliquia del quindicenne elevato alla dignità degli altari. Ho pensato bene di chiedere alla mamma una reliquia, che già è arrivata proprio il giovedì santo, è stato proprio un segno molto bello, e di iniziare questa settimana con un momento di grande accoglienza e di preghiera per le vocazioni e anche per il tempio che ormai è stato tutto ristrutturato e che nel prossimo mese di luglio verrà inaugurato dall'Arcivescovo di Napoli. Una vita breve ma intensa ed un grande modello di santità giovanile alla quale i bimbi della Catechesi si sono preparati nel corso dei mesi, approfondendo il carisma umano del beato Acutis, del quale è stato reso omaggio di un artistico busto alla storica e taumaturgica chiesa di via Monsignor Felice Romano. E' un dono dell'autore del restauro, dell'artista di Salvatore Seme, che ha voluto fare questo dono alla comunità. Noi l'abbiamo accolto con tanta gioia. Un calendario intenso e fitto di appuntamenti per quanti volessero approfondire e partecipare alle meditazioni guidate dagli iscritti del beato Acutis. Martedì c'è l'accoglienza della reliquia del beato Carlo, con la presenza di tutti i bambini della Catechesi, subito dopo la solenne celebrazione eucaristica. Nel pomeriggio di mercoledì ci sarà un incontro di preghiera sugli iscritti del beato Carlo e soprattutto sul momento di adorazione. Giovedì un pomeriggio di adorazione eucaristica. Venerdì l'abbate di Cava di Tirrene verrà qui per una messa di ringraziamento durante la quale ci sarà la benedizione del busto di Carlo. Un busto unico e solo ed una devozione che si accende e parte da Torre del Greco per sensibilizzare anche attraverso future iniziative i giovani a seguire questo esempio di santità contemporanea. Il mio desiderio era di avere un'immagine e la sorpresa è stata che a termine del restauro mi è stata portata questa immagine. Allora ho detto proprio il Signore vuole. Prossimamente faremo anche un pellegrinaggio ad Assisi per andare sulle sue reliquie. Così da San Giuseppe Moscati al beato Carlo Acutis sulla scia del parroco santo Vincenzo Romano e sotto lo sguardo della Vergine Immacolata la città di Torre del Greco consolida e celebra alla profondità di una singolare e privilegiata storia di fede.